Ed ora, una persona che non ha bisogno di presentazioni, Luca Zaia! Facciamoci sentire! Grazie! Grazie! Devo dirvi che ho l'onore e ringrazio Matteo Salvini per questo, di parlare non solo a nome mio, ma anche a nome di Roberto Maroni, che vorrei qui con me. Un applauso a Roberto! Vi chiedo di ringraziare con un grande applauso tutti quelli che hanno lavorato per organizzare questa manifestazione, perché senza i militanti queste manifestazioni non si fanno. Un ringraziamento alle forze di polizia che sono qui oggi. Un ringraziamento ai cittadini di Roma che vivono magari i disagi di questa manifestazione, con una certezza che noi non andiamo a bruciare i cassonetti e distruggere le città, ma le lasciamo più pulite di prima. Renzi? No, volevo vedere se avevate ancora attenzione. Da Veneto vi dico che trovo strano che ci sia ancora qualcuno che sostiene che le tasse sono diminuite, che non ci sono più problemi, perché vorrei che questo Presidente del Consiglio lo venisse a dire alle famiglie dei 150 imprenditori che si sono suicidati grazie a questa crisi. Non basta stanziare 80 euro per vincere le elezioni e far credere che tutto finisce lì, perché da un lato, cari cittadini, sono stati dati gli 80 euro, ma dall'altro è comparsa una nuova tassa che si chiama Tasi ed è aumentata anche l'IVA. Ha ragione Giorgia Meloni quando dice che te ne ho dati 80 con una mano e te ne prendo 160 con l'altra. Questo è quello che accade con questo Governo. Noi oggi viviamo molto le contraddizioni di un territorio che assieme alla Lombardia, e Roberto Maroni ha ragione quando lo ricorda, il Veneto lascia 21 miliardi di tasse ogni anno nei palazzi di Roma, la Lombardia 54 se non sbaglio, il nostro residuo fiscale, ma noi vorremmo lasciare quelle tasse per la quota di solidarietà, di sussidiarietà, per pensare a quei 6 milioni di poveri che abbiamo in Italia, non per ingrassare quelli che sono dentro nei palazzi. Questo è quello che sta accadendo. Prima c'è stato chi ha parlato delle quote latte, lasciatemelo dire, perché anche questa è economia. I rappresentanti di questo Governo, e mi riferisco al loro Ministro, che è l'unica cosa che sa dire davanti a un'infrazione comunitaria che chiede all'Italia di pagare 1 miliardo e 700 milioni per le multe mai pagate, come si dice, l'unica cosa che ha il coraggio di dire questo Ministro, che è vergognoso, che non è informato, che deve studiare, dice è colpa di Zaia. Bene, apra bene le orecchie questo Ministro, perché è l'unica legge fatta sul latte, che impone il pagamento delle multe, che fa una ratterizzazione che ha un interessi. Ebbene, si ricordi anche che questa legge è stata voluta e firmata e fatta assieme al Commissario Europeo, l'ha fatta la Lega nel Governo del 2009, nessun altro. Però questo Ministro deve anche sapere che abbiamo dato in carico alla Commissione Carabinieri per le Frode Comunitarie di indagare sulle quote latte. A tutte le procure italiane è stata inviata questa indagine dei Carabinieri. E ne viene fuori che i numeri non tornano, c'è chi sta indagando. Questo vuol dire che qualcuno ha dichiarato numeri falsi. Sentite, noi in Veneto abbiamo 514.000 immigrati, molti dei quali sono persone per bene, che si sono integrate, che hanno un progetto di vita, che hanno capito che quando si viene in Veneto prima si rispettano le leggi, poi si chiede qualcosa. Abbiamo l'11% della nostra popolazione che è rappresentata dai migrati, concorrono alla formazione del 5% del nostro prodotto interno lordo, però diciamo che è ipocrisia far credere a tutto il mondo che in Italia c'è ancora spazio per gli immigrati. Io ringrazio quei prefetti che si sono ribellati a Roma in Veneto, che hanno detto no, basta i migrati, basta i profughi in Veneto. Ringrazio tutti quelli che stanno facendo la battaglia con noi. Queste persone che vedete sono i nostri sindaci, ci sono i nostri amministratori che si rifiutano di andare ai tavoli delle prefetture a discutere ancora di profughi. 1.200 euro al mese il costo di un profugo, l'operazione Mare Nostrum ci costa un miliardo di euro e poi abbiamo 6 milioni di italiani che non sanno di cosa vivere, non hanno di che mangiare. Prima vengono i nostri e dopo quelli del resto del mondo. Abbiamo 200.000 disoccupati in Veneto, anche se Renzi dice che va tutto bene. Di questi 200.000 disoccupati, 42.000 sono immigrati. Un ragazzo su quattro è senza lavoro e due sono precari. Mi chiedo con quale coraggio si va a dire in giro che non ci sono problemi. E allora noi pensiamo che se c'è un posto di lavoro libero prima deve essere dato i nostri ragazzi. Matteo Salvini ha una maglietta con su scritto io sto con Stacchio. Per chi non l'avesse ancora capito noi stiamo dalla parte di chi comunque difende la sua gente, difende la sua famiglia. perché il signor Stacchio è un cittadino che ha difeso durante una rapina una commessa e oggi è l'unico vero imputato di quella rapina. è un bollettino di guerra, è un bollettino di guerra quotidiano. Io mi sono preso la briga tutte le mattine di fare un conto di quello che accade, rapine, aggressioni, furti, tutte cose che accadono nel mio Veneto che accadono in giro per l'Italia. noi abbiamo le idee chiare e le nostre idee chiare si chiamano certezza della pena, commetti un reato, vai in galera. le nostre idee chiare significano che noi vorremmo essere come gli Stati Uniti dove se guidi in stato di ebrezza una notte, almeno una notte, in galera te la fai per schiarirti le idee. Non come qui che dopo anni, anni, anni di condanne forse qualcuno ti verrà a chiedere se vuoi andare qualche giorno in galera. Per noi certezza della pena significa anche un Parlamento che legiferi in questa direzione. che faccia in modo che comunque in galera ci vadano i delinquenti e liberi siano i cittadini per bene. Non un Parlamento che punti sull'indulto, sulle amnistie e che liberi questi delinquenti. Se i carceri sono sovraffollati vogliamo più carceri non liberare i carcerati. Voglio ringraziare anche una persona che spesso non si ricorda se oggi si parla di legittima difesa è grazie a un ministro che abbiamo avuto noi Roberto Castelli e tutta la battaglia che lui ha fatto da ministro della giustizia. Qualcuno ha detto che è esagerata la proposta che faccio però per avere ordine pubblico sicurezza per i nostri cittadini anche perché noi non ci siamo abituati a vivere nelle gabbie con le inferiate e tutto quello che possiamo e non pensiamo neanche che sia giusto che i cittadini debbano tutti armarsi. Allora noi diciamo abbiamo migliaia di personale dell'esercito che non ha nulla da fare in questo momento. portiamolo in strada in aiuto le forze di polizia portiamo l'esercito in strada chiudo e lasciatemi salutare i miei veneti che so che sono tanti qui in piazza oggi chiudo ringraziando i veneti per il calore che ci hanno sempre dimostrato in questi cinque anni la battaglia continua pancia a terra verso l'obiettivo torneremo in regione e gli faremo un culo così. Un grande applauso per Luca più forte Luca